Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti allo yogurt di vaniglia e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina, fecola di patate, cacao, yogurt, latte, lievito per dolci, burro, zucchero di canna e cannella. I quanti derivi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta! Andiamo a mettere nel boccale lo zucchero. E la cannella. E andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la farina. Il cacao Il burro Il lievito Lo yogurt E infine la fecola di patate Andiamo a mescolare il tutto per 3 minuti A velocità 6 Il nostro impasto è pronto Andiamolo a stendere Andiamo a posizionare sul piano di lavoro un foglio di carta da forno Prendiamo il nostro impasto Lo posizioniamo Schiacciamo leggermente Il mattarello E andiamo a posizionare sopra Un altro foglio di carta da forno Che ci fariciliterà la stessura Bene Il nostro impasto è pronto Andiamo a ritagliare i nostri biscotti I nostri biscotti sono pronti per essere infornati Per 15 minuti A forno preriscaldato statico a 180 gradi Biscotti allo yogurt di vaniglia e cacao Grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti